Siete pronti ragazzi? Ho già fatto l'intervista Sì, sì, siete pronti? Sei pronta? Sì, sì Matri, secondo te è pronta? È pronta, è pronta Per me è matta, è matta Ok, adesso ti devi mettere l'imbraico Cristina Ok, teniamo sulla tuta Ah già, è vero Sì, 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 sì Sì, 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 sì Grazie a tutti. 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 Ciao. 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 Ciao.